Controlli sul territorio da parte della Guardia di Finanza che ha scoperto una riscarica abusiva a Battipaglia in località Spinita. Secondo, quando riportato dal mattino, gli agenti hanno sequestrato un terreno di circa 1.500 metri quadri dove sono stati rinvenuti rifiuti pneumatici e materiale di risulta. Il proprietario del terreno è stato denunciato a piede libero per aver violato le normative inerenti allo smaltimento dei rifiuti. Il blitz messo a segno della Guardia di Finanza è scaturito dopo numerose verifiche in località Spinita. I rifiuti rinvenuti nella discarica sottoposta al sequestro dovevano essere sversati in una discarica autorizzata oppure in un centro di raccolta che poi avrebbe provveduto a smaltirli regolarmente. Proseguiranno nei prossimi giorni verifiche e controlli per scongiurare la creazione di altre discariche a cielo aperto che inquinano la città. Purtroppo la creazione di micro discariche da parte di incivili senza scrupoli sono presenti in varie zone della periferia ma anche della zona industriale di Battipaglia. Ebbene fanno le forze dell'ordine ad intervenire così come gli operai di Alba che rimuovono i rifiuti abbandonati scongiurando il proliferare di rifiuti sulle strade. Proprio questa mattina sulla pagina Facebook della sindaca Cecilia Francese una nuova operazione di pulizia e rimozione di rifiuti da parte della società Alba è stata effettuata in via Cupa Filette ed in via Ceraso del Tasso procedendo dalla pulizia e contestualmente bonifica delle aree interessate all'abbandono illecito di rifiuti.